È stato uno dei protagonisti proprio nella sfida finale dei play-off contro Cassino, dove, con un devastante 8 su 11 dalla lunga distanza, spezzò in favore della Becquiri la contesa, regalando ai Biancorossi la loro prima storica promozione in Serie A2. Con la casacca piacentina ha messo a referto un totale di 137 punti su 453 minuti giocati tra Coppa Italia, regular season e play-off. Stiamo parlando del playmaker Roberto Maggio, che dopo un anno tra le fila di Salerno, ha deciso di tornare a Piacenza per cercare di portare nuovamente in alto la società di patron Beccari. Il presidente ha voluto fare un percorso diverso da quello in cui sono venuto due anni fa, puntando molto sui giovani. Ha voluto mettere un vecchio nucleo il nostro con il gringo e il tato per portare esperienza a questa squadra. Speriamo di fare bene e faremo di tutto possibile. Dove può arrivare questa Becquiri? in un girone così di ferro, diciamo. Guarda, sì, come hai detto tu, il girone è di ferro. Ci sono tante squadre importanti, non solo 100. Io sono scaramandico, quindi dove possiamo arrivare non lo so. Spero i più in alti possibile, facendo meglio, lottando su ogni pallone e lottando ogni partita. Vedremo poi durante il campionato come andremo. Quali sono le tue ambizioni e le tue aspettative quest'anno? Le mie ambizioni sono, prima di tutto, far crescere anche i giovani, che comunque sono sempre stato un playmaker, che gli piace mettere in ritmo i compagni. Quest'anno probabilmente avrò più responsabilità, non vedo l'ora di avere questo ruolo e di poter mettere in campo tutto quello che posso dare. Grazie. 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 Grazie.